È stato un venerdì di ultimi ritocchi all'allestimento, dopodiché domani, sabato 11 giugno alle 11.30, l'installazione di gabbiani delle maestro Giuliano Vangi sarà inaugurata cambiando radicalmente il profilo di piazzale Matteotti. Oggi, nelle comune di Pesaro, l'artista e scultore 91enne ha presentato in anteprima i suoi gabbiani destinati a volare sul piazzale d'accesso al centro storico. Un volo volto a celebrare i 140 anni delle autoline Bucci e l'epopea di una famiglia di pionieri del trasporto pubblico cittadino. Una colonna, un capitello e un uomo che si erge alzando le braccia toccando il volo dei gabbiani. Simbologia di un desiderio di libertà e di un controverso rapporto fra uomo e natura che Vangi ha realizzato utilizzando materie di grande resistenza e adattabilità all'ambiente. Granito rosso, acciaio inossidabile e alluminio. Rappresenta la libertà. C'è quest'uomo, c'è questo gran desiderio quasi di volare insieme ai gabbiani. C'è questo senso di movimento, di libertà, di desiderio di volare con i gabbiani. Di lasciare tutti i pensieri, i terreni, i pesi della vita quotidiana per volare in uno spazio libero. Qui celebriamo due cose in una. Celebriamo l'anniversario dei 140 anni di attività e celebriamo la grande scultura del maestro Vangi che ne rappresenta la materializzazione di questa memoria. È qui a perenne ricordo. Quindi effettivamente è una festa grossa che coinvolge tutta la città, immagino perché questa statua è nel pieno centro della città e quindi domani è un bene pubblico.